Assessore Paolo Gatti, la Giunta regionale ha deliberato lo stanziamento e il riparto tra i comuni dello stanziamento di 2 milioni e 400 mila euro per la fornitura dei libri di testo. Sì, è un'azione di supporto, la Regione fa da intermediario, arrivano i fondi statali e noi li ripartiamo tra i comuni che poi a loro volta vanno sulle famiglie e sostengono le spese della famiglia da un punto di vista dell'istruzione. Ecco, quest'anno perché il ritardo sull'assegnazione dei fondi? Ma forse per il passaggio di governo, cioè la sostituzione del governo Berlusconi e del governo Monti, non lo so. C'è stato un ritardo, qualcuno l'ha imputato la Regione, ma è un ritardo nazionale, si tratta di 100 milioni di euro e appena abbiamo avuto notizia del decreto a metà dicembre ci siamo attivati e abbiamo provveduto. Ecco, per la scuola si pensa all'innovazione con la tecnologia informatica, per quali vantaggi nello specifico? Beh, insomma, di innovazione stiamo cercando di portarne diverse, anche con dei progetti che sono in corso, adesso scaderanno i termini per le domande da parte delle scuole a brevissimo, mi pare il 20 gennaio. Poi riteniamo e stiamo ragionando con l'ufficio scolastico regionale che si debba portare anche all'innovazione tecnologica, quindi con i tablet, con gli strumenti informatici, ci stiamo ragionando perché insieme, collaborando, possiamo anche far fronte alle spese e non servono solo gli strumenti, ma serve anche una formazione per i docenti che devono essere in grado in classe di saper usare e saper fare usare gli strumenti ai ragazzi.